Valentina Vadi con il 55% dei consensi e il nuovo sindaco di San Giovanni Valdarno, se l'aspettava come risultato? Diciamo che ci ha sperato fin dall'inizio, addirittura anche il 26 di maggio, per la chiudere in quell'occasione lì, poi c'è stato il prolungamento delle settimane con il ballottaggio, la speranza c'è sempre stata, non la certezza, poi il risultato ci dà una grande soddisfazione perché comunque è risultato chiaro, netto e deciso. Che effetto fa indossare quella fascia nella sua città? Fa un effetto molto emozionante, di grande emozione, sono veramente, a parte che è anche stata, veramente molto emozionata, io credo che per chiunque indossare appunto questa fascia per chi fa politica nella propria città sia sicuramente un elemento di soddisfazione, di orgoglio e di grande emozione. Abbiamo visto anche tantissima gente stasera festeggiare insieme a lei, giovanissimi e meno giovani, tutti che la stanno ancora salutando, accogliendo. Sono arrivati anche loro, sì, sicuramente sì, che questa è la caratteristica di questo percorso che abbiamo fatto il maestro a gennaio, un progetto che è stata una sfida fin dall'inizio perché, come dire, non era certo, noi saremmo arrivati fino a questo punto, fino a indossare appunto questa fascia ed è stato un progetto che poi ha visto unirsi tante generazioni diverse, giovani, meno giovani, persone anziane, mi hanno creduto fin dall'inizio appunto, non solo in me ma soprattutto nelle idee concreti e importanti che noi abbiamo persaggiorato. Grazie.